Ovviamente il mio impegno riguarderà la sicurezza di 60 milioni di italiani, una delle mie priorità sarà di far sentire la mia e la vostra vicinanza, la vicinanza di un popolo alle forze dell'ordine a chi indossa una divisa che rischia la vita per 1200 euro al mese e non merita di essere preso in giro dai valordi che escono ed entrano di galera ogni quarto d'ora e vedremo di lasciarci di più a lungo in queste galere. E quindi non vi nascondo, a casa loro sarà una delle nostre priorità. Porti aperte in Italia per la gente per bene, un biglietto di sola andata per tornare a casa loro a quelli che vengono in Italia per far casino e pensano di essere mantenuti a vita. Piano piano ci vorrà pozienza, ci vorrà onestà, ci vorrà impegno, ci sarà voglia di ascoltare. Mi metterò a totale disposizione di tutti i sindaci di questo paese con i piccoli e grandi problemi di ordine pubblico che ci sono.